Noi ci troviamo al cancello numero 2 con la delegata del sindaco di Roma, che è la signora Giuliana Di Pello, alla quale voglio chiedere un po' come viene gestita questa che è la spiaggia più grande d'Europa, perché ha due chilometri di spiaggia libera. Buongiorno innanzitutto. Allora, c'è da fare una premessa. C'è da fare una premessa che questo territorio è un municipio molto grande, di 230.000 abitanti, e da due anni è commissariato per mafia. La sindaca Raggi, da che si è insediata, ha collaborato e sta collaborando con il commissario per riportare la legalità e le giuste regole sul territorio. In particolare, su queste spiagge, si è lavorato per la demolizione di strutture abusive che nel corso del tempo erano sorte proprio intorno ai chioschi. Qui ci erano di grande entità. Qui ci sono sette cancelli, ma cinque chioschi. Ora la situazione però è cambiata, perché finalmente i chioschi hanno raggiunto la loro dimensione originale, tutto in equilibrio con l'ambiente, e la spiaggia è libera, i servizi sono erogati direttamente dal municipio per quanto riguarda la pulizia dei bagni, per quanto riguarda la pulizia della sabbia e per quanto riguarda il salvataggio. C'è da dire, per quanto riguarda il salvataggio, che proprio nei prossimi giorni le postazioni dei bagnini verranno aumentate e diventeranno una per ogni chiosco, in corrispondenza di ogni chiosco, più altre due nei punti dove c'è maggiore affluenza di persone. E come...